Abbiamo fatto una partita sofferta per 2000 motivi, sensazione di mancanza di brillantezza dal punto di vista fisico, ma questo può succedere alla prima partita fatta alle 3 di pomeriggio, cambi obbligati in una partita giocata a queste temperature, non avere modo di poter rinfrescare e dare brillantezza alla squadra nel secondo tempo è un handicap non indifferente. Se poi si parla di cinismo abbiamo avuto una palla enorme a 4 minuti alla fine per vincere la partita, ma poi se eravamo probabilmente a fare un'analisi diversa, io fondamentalmente avrei ritenuto ingiusto vincere questa partita.